La stagione di aver difficoltà soprattutto ad andare in gol fuori casa, non c'erano mai riusciti. Oggi sono stati bravi a farlo e il fatto di aver portato a casa l'intera posta darà fiducia per il proseguo della stagione. Si chiude qui il nostro collegamento. Ringrazio Luca Marcheggiani per avermi accompagnato. Grazie Fabio, alla prossima! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!